I killer l'aspettavano quando è salito a bordo della sua auto una Fiat Punto parcheggiata in via Cavour al centro di Trenitapoli nella Bat gli hanno sparato. Il delitto è avvenuto ieri mattina alle 5.30. Gli assassini hanno affiancato la vettura di Antonio Carbone ed hanno esploso 6-7 colpi di fucile. La vittima era fratello di Cosimo Damiano Carbone, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Savino Saracino, avvenuto a Trenitapoli il 30 settembre del 2004. Nonostante la fedina penale quasi immacolata di Antonio Carbone, i carabinieri hanno subito inquadrato l'omicidio in un regolamento di conti tra clan rivali. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Dominga Petrilli della procura di Foggia, stanno ascoltando parenti e amici della vittima. Antonio Carbone, sposato e senza figli, si occupava della compravendita di prodotti ortofrutticoli. Era proprietario di un piccolo fondo agricolo nelle campagne di Trenitapoli. Ieri mattina, come ogni giorno, aveva preso un caffè nel bar di Via Cavour. Uscito dal locale è salito in auto. Dopo una cinquantina di metri è stato affiancato da un altro veicolo da cui è partita la sventagliata di proiettili. Un colpo, quello mortale forse, l'ha raggiunto al capo. Carbone ha proseguito la sua corsa prima di finire contro un marciapiede. Nell'impatto l'auto si è anche ribaltata. I carabinieri hanno recuperato sull'asfalto tre cartucce di un fucile calibro 12.